E arriva l'ennesimo podio per l'Italia, l'ennesimo podio per Dominic Paris nella discesa libera di Wengen sulle nevi svizzere, spettacolo assicurato ogni anno. Buon pomeriggio a tutti i miei passati di sport e ben ritrovati su Molderino Sport Channel, io sono Alessandro e sono qui per parlarvi appunto della discesa libera maschile di Wengen, casa di Beat Voiz, che non sbaglia e conquista la sua terza prova appunto a Wengen, seconda consecutiva. Partiamo subito con una telecronaca, una breve cronaca, con una grandissima prova di Caviezel, accetto per una spigolata all'ingresso della Kernen S, appunto il punto decisivo della pista, molto stretto, molto difficile da affrontare, in cui si decide spesso la gara. Il tedesco Dressen fa una discesa fotocopia di Caviezel ma nella S finale riesce a recuperare due decimi, mettendosi appunto davanti allo svizzero. Scende poi anche Paris che fa anch'esso una prova praticamente fotocopia del tedesco ma riuscendo comunque a stare davanti per solamente due centesimi. Scende poi Beat Voiz, Beat Voiz che è veramente spettacolo puro, soprattutto tra le curve iniziali, tra Canadian Corner e appunto Kernen S. In seguito scende Mayer, artefice di una prova veramente spettacolare nella discesa appunto di combinata ieri, proprio appunto a Wengen, combinata che è riuscito a vincere, uno dei pochissimi discesisti a vincere la combinata che spesso va ad appannaggio degli sciatori tecnici. Scende poi Kilde che nel primo settore in spinta guadagna veramente un'infinità, in spinta ha una potenza assurda il norvegese ma gradualmente perde qualche decimo e alla fine chiude in sesta posizione. Erroracci per Ianka e Claré che stanno facendo un'ottima manche ma appunto con questi errori che hanno fatto uno nel Canadian Corner e l'altro nella Kernen S sono riusciti praticamente per miracolo a rimanere in piedi. Per quanto riguarda la classifica appunto vittoria di Beat Foyz con 29 centesimi su Dominic Paris, 31 centesimi su Thomas Dressen, 38 centesimi su Mattias Mayer, seguono poi Caviezza a 42 e Kilde a 48. Kilde che ricordiamo è in lotta per la classifica generale e conquista così 40 punti. Dopo che sono scesi i primi 30 al momento abbiamo anche in tredicesima posizione Mattia Casse e in ventiduesima posizione invece il nostro Marsaglia. Mattia Casse che ha fatto veramente una buona prova all'inizio anche nella Kernen S ma poi sul finale è andato a perdere un po' troppo e dunque chiude solamente in tredicesima posizione. Ci si poteva aspettare di più dati gli ottimi piazzamenti in prova. Comunque ragazzi direi che per questo video è tutto, vi invito a lasciare un commento, un piace, iscrivervi, seguirci anche sulla nostra pagina Instagram e noi ci vediamo con un prossimo video sul gigante femminile seconda manche con in testa al momento dopo la prima manche Federica Brignone.